Giorgio Ferrero a San Giorgio Scarampi, questo gioco di parole, Assessore regionale all'agricoltura a questa 23esima Fiera del Castrato Piemontese. Assessore, come sta andando la zotonchia piemontese? Molti allevatori si lamentano, prezzi bassi degli animali, forse una flessione anche del consumo. La regione in questo si sta impegnando e come? Diciamo che il settore zootecnico da carne, dei bovini e in particolare quello della razza piemontese è un settore strutturalmente non remunerato a sufficienza, questo è storicamente così. Possiamo dire che nel panorama dei comparti agricoli è un settore che tiene, ha una razza straordinaria che ricordiamoci è la più importante razza autotona in tutta l'Italia, che da sola fa più numeri che tutte le altre razze magari conosciute, anche blasonate italiane messe insieme, quindi è una razza bovina piemontese, è un patrimonio straordinario. E poi ha una serie di varianti di super qualità, stiamo vedendo qua l'allevamento del bue che è come il tartufo del settore zootecnico. Quindi ci sono buone speranze, Assessore? Sì, ci sono buone speranze. Purtroppo l'allevamento richiede sacrificio da parte degli imprenditori perché gli animali non hanno domenica, non hanno festività, non hanno ferie e spesso ce ne dimentichiamo. Invece qua ci sono famiglie che dedicano la loro vita a questo tipo di allevamento e quindi andrebbero un po' di più incontrate anche economicamente e speriamo che noi ci stiamo lavorando su questo. Assessore, lei è Assessore all'Agricoltura da 100 giorni? Più o meno? Anche meno. Ecco, domanda delle 100 pistole, ma lo stato dell'agricoltura piemontese in questo momento tra un sacco di problemi ma anche un sacco di potenzialità e soprattutto delle eccellenze indiscusse? Ma il Piemonte ha un settore agricolo e direi anche agroalimentare di assoluta eccellenza. Purtroppo ogni difficoltà che accade nel settore, diciamo tolto quello dell'ulivo, in Piemonte arriva. Noi abbiamo avuto il problema del riso in cui siamo i più grandi produttori in Italia e quindi in Europa, che è un problema di non trasparenza del mercato. Abbiamo avuto il problema delle pesche e quindi un po' dell'ortofrutto in generale, una stagione difficilissima dal punto di vista climatico e noi abbiamo un comparto frutticolo di assoluta eccellenza, anche di produttività. Quindi abbiamo dei comparti che fanno i conti anche con gli effetti internazionali. Se la Russia chiude le frontiere all'ortofrutta, noi abbiamo immediatamente interi magazzini che non si svuotano verso quei mercati e che vanno in difficoltà. Comunque il Piemonte c'è, c'è per esempio il riconoscimento UNESCO, ci sono i grandi vini, ci sono queste promesse che secondo lei, Assessore, saranno mantenute? Ma quello è l'inizio. Diciamo che il riconoscimento dell'UNESCO è un dato fondamentale perché anche i piemontesi, anche noi, ci rendiamo conto dello straordinario posto in cui viviamo. Da lì bisogna partire con una campagna ancora più importante sulla valorizzazione dei territori. Il territorio dà valore al prodotto, quindi se noi abbiamo un territorio di valore, i prodotti che arrivano da quel territorio hanno un valore maggiore. Non è soltanto per questo, ma anche un percorso culturale che include l'arte, include la nostra storia. E su quella roba lì bisogna costruire un'economia che noi ci crediamo, l'ha detto Chiamparino più volte, lo diciamo con i fatti nel piano di sviluppo rurale che è un fondo straordinario per questo sviluppo. Recentemente Oscar Farinetti, il patron di Italy, in una trasmissione radiofonica dice che l'Italia non è ancora capace a narrare bene le sue agroeccellenze. Lei è d'accordo su questa analisi? Sì, purtroppo sono d'accordo, per i piemontesi vale tre volte questo dato perché è sufficiente, io lo consiglio a tutti, a fare un giro nella vicina Francia e vedere come valori ben meno importanti di quelli che abbiamo noi vengono straordinariamente valorizzati in termini di comunicazione, in termini di turismo, in termini più generali proprio di dare, raccontare anche secondo me un po' eccessivamente queste cose. Noi dobbiamo trovare la giusta misura ma bisogna, Oscar dice, bisogna fare cocodè, far sapere cosa facciamo. Senta, di qua si vedono delle vigne di Moscato, da quella parte ci sono le vigne di Nebbiolo e poi da quell'altra parte le vigne di Bracchetto. Io so che la prossima settimana sarà una settimana intensa per l'assessore. Che cosa succede sul Bracchetto, cosa succede sul Moscato, cosa succede sulla Barbera anche? Come vanno questi settori? Allora, il Bracchetto domani mattina facciamo un incontro e ha una difficoltà purtroppo contro le quali la politica nulla può, che è una difficoltà di mercato, quindi questo settore o riprende un mercato oppure non ci sono soluzioni praticabili. Sul Moscato andiamo giorno dopo, quindi martedì e qua per fortuna non abbiamo difficoltà di mercato. Incrociando le dita il comparto tiene bene, i prezzi di cui si sta parlando sono decorosi e quindi ci sono ancora un po' di discussioni tra le parti ma comunque affrontiamo una vendemmia con un po' di serenità, comunque siano il risultato di questo incontro. Nebbioli sembra che se Dio ci dà un po' di buon tempo avremo anche una buona annata e sulla Barbera è un vitigno su cui siamo in bilico. Questo comparto, questo vino deve scegliere la via. Abbiamo delle straordinarie qualità, eccellenze, abbiamo dei Barbera in giro che si posizionano a livello altissimo sul mercato. C'è ancora una coda che va migliorata di qualità del prodotto però è un vino che nel giro di un paio d'anni può veramente fare un salto di qualità. Complice purtroppo il dramma della flavescenza che ha falcidiato, mi spiace un po' dirlo, anche le coltivazioni più marginali per cui sono rimasti ancora molti ma sempre più accaniti e appassionati quelli che fanno Barbera. Grazie Assessore. Grazie, grazie a voi. Ciao Filippo. Grazie a voi.